Qual è l'onestà che voi chiedete, l'onestà morale che chiedete al donatore? Se è in corso in comportamenti cosiddetti a rischio, che li conosciamo tutti quali sono, o si autoescluda o ce li dichiama. Il comportamento a rischio che voi medici dite che conosciamo tutti, quali sono? Somministrazione di stupefacenti per via endovenosa, non la cannabis quindi? La cannabis per sé non è un elemento che può trasmettere malattie infettive, quindi non somministrazione di droghe endovenose, o per via parenterale comunque, non somministrazione di droghe endovenose, poi? E rapporti a rischio di tipo sessuale. Ecco, rapporti a rischio di tipo sessuale, lì è una bella lotteria però. Certo, l'importante è… Come fa a sapere se è un rapporto a rischio? Vorrei dire… I rapporti a rischio sono quelli a pagamento, con partner sconosciuti, con partner nuovi, noi escludiamo dalla donazione per i primi 4 mesi dall'inizio dell'attività sessuale anche un donatore che inizia una nuova vita di relazione. Quindi voi prendete solamente gente fedele? Ci auguriamo. E non è un po' azzardata per la scienza pensare che ci sia solo gente? Ma per fortuna abbiamo gli esami per quelli lì che qualche volta si dimenticano di qualche episodio a rischio. E comunque bisogna dire che l'attuale possibilità di trasmissione di un HIV oggi nel 2016 è dato come 1 su 4 milioni di trasfusioni. Adesso mi parla proprio di HIV, non epatite in questo caso. L'epatite ha anche 2 milioni e mezzo, un caso su 2 milioni e mezzo sull'epatite C. Persone dichiaratamente omosessuali possono donare sangue? In Italia non è vietato, nel resto dell'Europa, in parecchi paesi è proibito. In Italia l'omosessualità di per sé non è considerato un comportamento a rischio. Perché anche loro siano fedeli. Esatto, che siano in una relazione di coppia e che non incorrano in rapporti a rischio. La non conoscenza, ad esempio, della lingua è un limite? È certo, è un limite assoluto. Cioè se il donatore non riesce a comprendere il questionario, non riesce a leggerlo, non riesce a comprendere quello che gli chiede il medico. Nella legge è scritto chiaramente che l'aspirante donatore deve avere una buona conoscenza della lingua italiana. Ecco, questa è un'altra cosa non... È una discriminante sicuramente. È una cosa non chiara più che altro, perché vuole dire, credo che per molte cose la regione predisponga moduli almeno in quattro lingue, addirittura in frulano. Mentre per donare sangue è tassativo, cioè non esiste, è tanto difficile fare un modulo in lingua inglese, perché non penso che... Non è consentito, cioè dice il nuovo degredo ministeriale del 2 novembre 2016, Quindi il tema di governo italiano, non di regione? Sì, ha chiarito che il questionario, così come è stato prodotto nella gazzetta ufficiale, deve essere adottato su tutto il territorio nazionale, fatte salve le aree tutelate per il bilinguismo. Quindi non può essere tradotto in lingua inglese? No. Però può essere tradotto in sloveno o in tedesco? O in francese, per i valdostani. Ho capito. È possibile parlare di business del sangue, ovvero il sangue, soprattutto quello raccolto in eccesso, può essere venduto? No, il sangue non può essere venduto oggi. Oggi il sangue che è nelle regioni eccedenti, noi siamo tra queste regioni, può essere ceduto ad altre regioni italiane, ai centri regionali del sangue di altre regioni italiane che poi lo redistribuiscono tra i trasfusionali di quelle regioni. Ma viene omaggiato o venduto agli altri ospedali, alle altre regioni? Dunque, questo sangue qua viene fatturato alle regioni… Fatturato vuol dire venduto? No, viene ceduto al prezzo di costo che è stato calcolato dal centro nazionale sangue. Esistono delle tariffe… Sì, quindi viene venduto. Dalla regione alla regione. Sì, viene venduto però. Sì, viene ceduto e la regione… Perché non vuole dire venduto? Perché non è venduto, è ceduto in compensazione e la regione non riceve un guadagno dalla cessione del sangue, riceve la ristorazione dei costi che ha affrontato, perché adesso non ricordo esattamente qual è la cifra, credo che è un'unità di sangue pronta per l'uso, mi pare che i costi sui 200, abbia un valore intorno ai 200 Euro, forse 185. Questi sono i costi calcolati dal centro nazionale sangue per la raccolta, la produzione, gli esami di validazione e la separazione e la produzione dell'emocomponente. Lo stesso sangue, o meglio, parte del sangue plasma, viene utilizzato anche per la produzione, si diceva, di emoderivati. Certamente. E in questo caso qua c'è una vendita di plasma, c'è un business? Dunque, il plasma prodotto dalle regioni italiane viene in minima parte trasfuso direttamente così com'è ai pazienti, per quelle pochissime indicazioni che ci sono a trasfondere direttamente. plasma. Tutto il resto, che è ben oltre il 90%, alcune regioni, noi siamo tra queste, sono consorziate, esistono tre consorzi a livello nazionale, sono consorziate per cui tutto il sangue, il plasma prodotto da queste regioni deve essere conferito a un'azienda che deve lavorare questo plasma. che operà in regime di monopolio. Fino ad alcuni anni fa sì, adesso però l'Italia ha recepito le indicazioni europee che la gara per l'individuazione di questa azienda deve essere un'azienda europea che opera in... E l'azienda che lavorava in regime di monopolio era un'azienda ovviamente privata? Eh sì, anche quella che adesso ha vinto la gara che è un'azienda tedesca e un'azienda privata. Però ha vinto la gara mentre prima era, ti piace vincere facile, cioè era un'azienda privata e monopolio? Eh sì, sì, prima era un'azienda unica che poteva gestire questo rapporto. L'avevano azzeccata, vuol dire, l'azienda, i privati che l'avevano fatta? Eh sì, l'importante è trovare la start-up giusta, oggi come oggi. Certo, ecco. E in questa cosa qui si diceva che le aziende lavorano in conto lavorazione. Cioè io ti pago per ogni litro di plasma lavorato dal quale tu mi devi per contratto produrre tot quantità di monoglobuline, tot di fattore di raccoagulazione, tot di... albumine, eccetera, e io ti pago una certa cifra che non riguarda. Mentre le aziende farmaceutiche che necessitano di plasma per una vendita sul mercato acquistano il sangue dall'estero. Acquistano gli amoderivati? L'associazione Friulani di Dottori Sangue, la FDS, ha lamentato anche se la regione in particolar modo in Siel fa molto orecchie di mercante, tant'è che continua a non rispondere alla nostra domanda, ha lamentato il fatto che manca quello che la legge prevede, il principio di bidirezionalità. Ossia, mi spiego meglio, la FDS utilizza un sistema informatico che si chiama Blood Manager, che è differente da quello della sanità regionale. questo non consente, quello che invece prevede la legge, che i due sistemi si possano leggere fra di loro. A FDS dice che il loro sistema, che effettivamente è vero, è dal punto di vista informatico superiore, però hanno anche detto vi omaggiamo del nostro sistema, ma in Siel, Friulani e Giulia e Sanità non hanno voluto, quindi non si leggono. Lo sapeva? Sì, sì, lo so che a Udi nella FDS ha un programma, ho sentito la sua Presidente, io non conosco il programma francamente. Sì, Pucic, che è Presidente di Insiel, dice che è affare della Telesca. La Telesca, quando abbiamo chiesto con chi parlare, c'è detto di parlare col Presidente dei donatori di sangue dell'Avis. Dell'Avis? Dell'Avis. Sì, può essere un'idea. Sì, può essere un'idea per non avere una risposta. No, no, io non so cosa, cioè... Vedo, l'ho detto per cogliere nel suo volto lo stesso stupore che ho avuto io. No, cioè, il discorso è questo. Allora, se io ho un, secondo me, se io ho un sistema mio... Superiore. No, no, mio, poi superiore lo deve decidere. Io non so se il mio è superiore o non so, cioè, io posso dire è superiore, poi bisogna vedere cosa ne pensano gli addetti ai lavori. Parliamo di un sistema che non conosco. Io ho il diritto di avere alimentato il mio database con le informazioni del database regionale e poi devo evidentemente poter restituire delle informazioni. E questo è sicuramente garantito dalla norma che gestisce il sistema sangue. Poi, su come, esistono almeno due modi. Uno è il sistema più sofisticato possibile, una bidirezionalità assoluta, che io scrivo una cosa di qua e in un attimo viene copiato di là e torna indietro in maniera molto sofisticata. oppure il tutto può essere trasferito attraverso file. Cioè, io scarico tutta una serie di dati dal database e periodicamente, che può essere una volta al giorno, ti aggiorno il database. Ma questo non permette la comunicazione in tempo reale? Bisogna vedere cosa intendiamo in tempo reale. Intendo che quando uno cerca un donatore con determinate caratteristiche, vede in tempo reale il donatore dove si trova, eccetera, eccetera. Ma, insomma, considerando che tra una donazione di sangue intero e un'altra di sangue intero ci vogliono 90 giorni di tempo. Tra una di plasma e una di plasma ce ne vogliono 14. Se io aggiorno il database ogni due o tre giorni, credo che ce l'ho aggiornato a tempo reale. Vi pare? Certo. La ringrazio, dottore. Ma si immagini. È stato un piacere. Ecco, avvocato Agrizi, una piccola parentesi. Sono stati segnalati alla vostra associazione casi di persone che hanno contratto malattie per trasmissione di sangue infetto? Sì, noi come associazione da, diciamo, diversi anni abbiamo diverse segnalazioni in relazione a persone che sono state ricoverate presso i nosocomi di Udine, piuttosto che Gemona, piuttosto che anche fuori regione. comunque tutti gli ospedali del Friuli Venezia e Giulia che hanno, in seguito a una trasfusione di sangue, riscontrato la contrazione dell'epatite, dell'epatite C, dell'epatite B e abbiamo avuto anche dei casi di contrazione dell'HIV. Sì, ecco, noi in questi casi qua abbiamo… Addirittura HIV? Sì, addirittura, sì. Ci sono stati anche di questi casi qua. e questo è stato una problematica che si è verificato, diciamo, prima degli anni 90, i controlli non erano così stretti, non venivano fatti sostanzialmente sulle sacche di sangue per cui le emotrasfusioni potevano essere infette. Difatti questo è un problema poi che è stato affrontato a livello nazionale con l'emanazione di una legge, la 210 del 92. Ma in questi ultimi anni? Sì, in questi ultimi anni è chiaro che noi abbiamo molti casi in cui la contrazione dell'epatite è avvenuta negli anni 70-80 e la persona effettivamente è venuta a conoscenza di avere l'epatite. Quindi però negli ultimi anni non sono stati anni che hanno registrato trasfusioni a rischio? No, negli ultimi anni le trasfusioni effettivamente non abbiamo avuto casi in cui ci siano state delle trasfusioni a rischio, semplicemente in questi anni hanno le persone affette dall'epatite sono venute a conoscenza di avere l'epatite perché l'epatite sappiamo che è una malattia che rimane in incubazione, può rimanere in incubazione per tantissimi anni e quindi non creare delle problematiche che poi possono essere addirittura mortali, ecco lo sappiamo perché può portare anche al tumore al fegato. Ecco, noi in questi casi abbiamo segnalato e poi abbiamo inviato queste persone a un legale che potesse fare la richiesta di indennizzo ai sensi della legge del 92.210. Ho capito, se posso, prego. Allora, dobbiamo essere chiari anche questo, riprendo quanto dicevo prima, una trasfusione non è mai a rischio zero, dobbiamo prendere costante di che percentuale mettiamo? Adesso è bassissima, no? Mai come adesso la trasfusione è sicura. È sicura, però a rischio zero non esiste. Lo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ma rimane quel 0, 0, 0, 0, 1. Allora, dobbiamo dire una cosa, fino a pochi tempo fa, fino a prima dell'emanazione della legge, non si conosceva l'epatite C, perché si chiamava epatite non A, non B, non sapendo che cos'era questa epatite, non era epatite A, non era epatite B, era una nuova epatite e la chiamavano non A e non B. La stessa cosa possiamo dire nei tempi antichi che l'epatite agli emofilici gliel'abbiamo data, con la trasfusione di sangue, dobbiamo essere onesti e dire questo, perché non si conosceva questo. Come oggi si sa pochissimo dell'epatite D, dell'epatite E e della patite F. Ci sono altri tipi di epatite. Se mi permette, questo è stato un qualcosa che abbiamo cavalcato, cioè, in certe regioni d'Italia, questi casi, il ricorso alla legge 2.10 non avviene quotidianamente, ma settimanalmente sì. Sì, però mi permette di intervenire, perché comunque, anche se negli anni 90... Mi lasci finire il discorso. Allora, dopo vorrei fare una prestazione. Questo è un attacco alla diligenza, perché siccome molte volte non si è in grado di dimostrare... Diligenza o dirigenza? Un attacco alla diligenza. Ok. La diligenza. Allora, capito, capito. Siccome non si può dimostrare e non c'era la tracciabilità delle sacche di sangue, quindi l'istituto immunotrasfusionale, o chi per lui, paga e quindi diventa, in certe regioni d'Italia, un modo per... Quindi si va da un avvocato, scusi, non vorrei offendere la categoria, ma la prima domanda che gli fa è se sei stato ricoverato in ospedale, sì, hai avuto trasfusione di sangue, sì, allora l'epatite l'hai beccata con la trasfusione di sangue. Beh, però poi l'avvocato dovrà anche dimostrare come un perito questo, non credo che... No. No, no. Allora, ci sono delle condizioni... No, legge 210 del 92, no. Sì, basta, ci sono delle condizioni stabilite dalla legge, per cui questo indennizzo deve essere... Ma si sa che comunque l'indennizzo non viene elargito, ci sono... viene fatta una richiesta, viene fatto un esame, viene fatta una visita e poi, cioè, non è che viene dato sempre l'indennizzo. Anzi. Tra l'altro, mi volevo puntualizzare... Anzi. Anzi, appunto, anche persone che adesso hanno l'epatite e ne pagano le conseguenze, perché ricordiamo che l'epatite cambia la vita delle persone... Certo. In peggio e può, appunto, degenerare fino anche a... A cancro cirrusi. Esatto, a conseguenze mortali. 60.000 morga. Ecco, però, vorrei precisare che fino agli anni 90, va bene, non si sapeva dell'esistenza dell'epatite C, però si poteva comunque verificare che questi sacchi di sangue avevano dei valori sballati, perché le transaminasi sono degli indicatori che la persona non sta bene, perché quando si hanno le transaminasi al di fuori certi valori, queste sacche di sangue non dovevano essere, appunto... Professor Biffoni, allora, lei fra l'altro, chiedo scusa, fra l'altro attualmente lei che è in carico, eh? Presidente del Collegio Medico Legale della Società Italiana di Medicina Trasfusionale. Quindi, è lui. Esatto. E allora, io dico, fine della... Le visite in commissione. No, io le visite non faccio per la ragione molto semplice che quasi sempre io sono perito di parte per le istituzioni, contro la legge 210-92 e non ho perso mai una causa. Spero di non incontrarla. Non ho mai perso, ho fatto per il Triveneto, per... E ma anche noi abbiamo i nostri medici legali. Sì, lo so, ma bisogna essere in questo campo particolarmente esperti. Assolutamente. Ad esempio, alcune cose che lei citava prima... Poi avrà un ruolo anche il malato, no? Oltre all'avvocato al medico. Ma le casistiche internazionali mettono in luce una cosa molto facile da verificare, che soltanto il 16% dell'HCV, ad esempio, anche in persone trasfuse è danno da trasfusione, ma è danno da altri fattori occasionali che sono occorsi. In particolare, non i rapporti sessuali in questo caso, perché la trasmissione del rapporto sessuale nell'HCV è estremamente bassa, mentre è molto alta, ad esempio, nell'HB, SAG. Ma in un'usanza che in alcuni casi... Così, cos'è l'HCV e l'HB... L'HCV è virus C dell'epatite, HBSG e virus B dell'epatite, HB virus e HC virus. Vabbè, questo deve essere verificato di volta in volta. Di volta in volta viene fatto... Stiamo parlando, comunque... Non vorrei generalizzare, perché poi ogni volta... Guardi, se c'è una cosa che i medici legali con cui lei avrà avuto a che fare non fanno, nessuno è di generalizzare. Quello lo lasciamo fare ai giuristi che devono fare una fattispecie. Noi non facciamo fattispecie, ma facciamo il caso singolo. Meno male. No, guardi, non c'è nessun dubbio. E volevo dirle questo qua, che la maggior parte, quindi, per esempio, dell'HCV, perché sia di sua conoscenza, che spesso e volte viene dato in maniera non congura, in base alla legge 210-92, derivano da una usanza che negli anni, dopo guerra, fino agli anni 50-60, lei fortunatamente ancora non era nata, e difatti sono gli anni di maggior pregnanza delle persone che portano l'HCV, usavano il vecchio metodo di far bollire la siringa e di fare le lezioni, per esempio, ai bambini, per fortificare in primavera, si facevano. Si facevano spessissimo, sì. Il bollire 5 minuti la siringa, al virus sull'epatite B e C, fa sorridere. Non li facevano. Non facevano. E così, anche in vari casamenti e così via, è accaduto che ci fosse la trasmissione dell'epatite B e dell'epatite C. Dottore, quanto è, divaghiamo un attimino, ma non troppo, visto che stiamo tocando gli argomenti un attimino importanti, al di là delle trasfusioni, sempre via sangue, la possibilità di contrarre questi rischi, questi rischi, scusi, queste malattie, facciamo delle classistiche, ad esempio, dal dentista. C'è un dentista non accurato, può trasmettere, è uno dei casi di trasmissione dell'epatite, ma adesso tutti i dentisti sono estremamente accurati. In qualsiasi studio dentistico che lei va, trova lo sterilizzatore e trova sempre l'apparecchietta ultravioletti che sta lì, che serve a sterilizzare i germi più comuni. E si trasmette col sangue, non con la saliva dal dentista? No, con la saliva non si trasmette presso a poco nessun virus, nemmeno l'IV. Di fatto, vedeva benissimo, ad esempio, Moroni e altri che baciavano HIV anche sulla bocca, tranquillamente, perché non avevano nessuna paura, perché se non ci sono delle lesioni che mettono in funzione il contatto sangue-sangue, non si verifica la trasmissione. Sì, comunque nel caso di contrazione di epatite per omissione di igienizzazione dei materiali, non vale la legge 210, ma vale appunto la responsabilità consensuale. Però è giusto specificare che la contrazione delle epatite si può avvenire anche per mancata la pulizia dei strumenti. Specialmente nel curettage, è facilissimo poter, se uno non è stato attento, ma di fatto adesso tutti i dentisti, almeno nella nostra regione, mi sento di poterla fermare, sono estremamente, estremamente attenti. È un campo, quello della legge 210 del 92 è stata una legge che è nata su spinta popolare demagogica dell'API, dell'Associazione Poli Trasfusi Italiani, negli anni 90 e che ha avuto un certo successo perché si è legata a una, è entrata come codicillo in un'altra legge più importante, che era la legge da danno da vaccinazione da tubercolosi e da antirosolia. E quanto riguarda le vaccinazioni? Le vaccinazioni anche sono un altro problema, è lì, è un risarcimento. Sono un problema per l'acidinca o per il vaccino? No, 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 proprio per il vaccino, ma che non è assolutamente comparabile ai benefici che un vaccino fa. Un vaccino permette di qualsiasi tipo di vaccino, fa un'opera, una delle più grosse conquiste dell'umanità in campo sanitario è stato il vaccino. La campagna antivaccino che viene fatta in quest'epoca storica è una campagna di tipo medievale da ignoranti assoluti di quello che è il progresso della medicina. Guardate. Però comunque io vorrei precisare che ci sono delle persone che hanno subito questi danni, che hanno avuto la propria esistenza rovinata, per cui non la chiamerei una legge demagogica, ma una legge che ha ridato dei diritti a delle persone che hanno avuto una lesione alla salute. ricordiamo che nel nostro ordinamento vale l'articolo 32 della Costituzione, per cui se c'è questa lesione è giusto che ci sia anche una giusta indennigio. Ben se c'è una colpa, ma se la colpa non sussiste, è lei che deve sapere che dal 1957 in Italia c'è una... No, 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 ci sono dei controlli che erano previsti tipicamente dalla legge, in base alla quale tutti i centri trasfusionali italiani, nel Triveneto glielo posso assicurare nel 100%, dovevano eseguire determinati controlli che sono stati sempre fatti e che sono comprovabili. Evidentemente se ci sono state queste infezioni evidentemente non sono stati fatti. Adesso io non voglio entrare in merito. Abbiamo scritto anche dei lavori scientifici che a un certo punto la trasfusione del sangue diventa di per sé un fattore di valutazione e di diminuzione della propria persona. Quindi secondo lei tutte le contrazioni sono dovute a... Bisogna dimostrare, ma io non vorrei generalizzare che la colpa deriva da imperizia, imprudenza, negligenza. Lei mi deve dimostrare l'imperizia, l'imprudenza e la negligenza. No, in questo caso no, perché vale la presunzione di colpa. Ma è meglio che ritorniamo a Bobba, perché mettersi fra gli avvocati e i medici legali... No, è quasi, io ci salvia liberi. È chiaro che io difendo i cittadini e le persone che hanno subito dei danni. Io non difendo i cittadini. Ecco, nel momento in cui lei dice che è una legge demagogica, per persone che invece hanno avuto un poco, un poco di giustizia di fronte a... Ma senta una cosa... Anche perché, tra l'altro, come lei ha detto prima... Siamo fuori tempo, no? Che abbiamo fatto un avvocato... Questo vitalizzo che viene rilasciato, non viene rilasciato così a casaccio. Ci sono dei requisiti specifici che sono stabiliti dalla legge, punto. Buoni, repliche velocissime, siamo fuori tempo. Allora, siamo fuori tempo, io dico che ciò che dice l'avvocato... La cavaliere qual è? Io sono un cavaliere e ammiro senz'altro la bellezza dell'avvocato. La bellezza che non si abbina a una perfetta conoscenza di quella che è la materia inesame. Mi permetta, guardi, su questo penso di essere una delle pochissime cose che io conosco. Ma io le dico... No, io voglio fare solo un esempio che è accaduto a me. Siamo fuori tempo, davvero. Se ce lo fai in dieci secondi, dai. In dieci secondi. Persona che viene sottoposto, in epoca prima del 1989, quindi della validazione dell'HCV, ha trapianto di cuore. Sarà un trapianto salvavita. Fa sette trasfusioni solo. Tutte rispondenti a quelli che sono i requisiti di legge. Fa causa, non ricorda nemmeno alla 210 del 92, per un'epatita C. Causa o indennizzo? No, no, no. Ho detto senza far ricorso alla 210 del 92. L'indennizzo... Allora stiamo parlando dell'indennizzo. Va bene. Allora, siamo fuori tempo, quindi per il sogno concludiamo la puntata con un auspicio, che lei riesca finalmente a incontrarsi con Mediotto. Quando sarete assieme magari vi verrete qua. E così, voglio dire, sapremo come andrà a finire. Ovviamente una battuta la mia. Ringrazio l'avvocato Anna Grizi, ringrazio il dottor Renzo Pressoni, ringrazio il professor Franco Biffoni per la presenza questa sera. Io mi scuso con l'avvocato. Ecco, con una bella stretta di mano. Con un bacio a mano. Con un bacio a mano. Meglio evitarvi. Grazie a tutti e buona stasera. Meglio evitarvi. Sì, sì, meglio evitarvi a tutte e due. Grazie a tutti e buona stasera. Grazie a tutti e buona stasera.